e la Fiorentina è in vantaggio aveva segnato la prima giornata contro la Cremonese adesso questo gol che manda davanti la Fiorentina sul cross basso di Dodo Zielinski e il Moss scambiano Zielinski, zona cross, ecco lo morbido secondo palo pareggia subito Victor Rosimane un altro gol 1-1 palla larga a sinistra da Vignato scende anche lì con Iannis a sinistra Vignato cerca Orsolini in area di rigore Orsolini appare il Cettol Bologna Riccardo Orsolini segna ancora palla larga da Vignato è lui a mettere il destro dentro l'area di rigore per Orsolini Kostic va via Barella prende ritmo lo insegue Barella corre Kostic porta su il pallone c'è anche Rabiot in area Kostic il cross basso Rabiot Rabiot ripartenza letale della Juventus Kostic è lucido mette proprio lì il pallone Rabiot lo colpisce benissimo nessuna possibilità per il volo di Onana Messias pensa al tiro poi va da Benazer che allarga il gioco per Teornandes Teornandes Milan in vantaggio al ventunesimo la sblocca Teornandes secondo gol in campionato lancio di Benazer è sembrato illuminante e Teornandes si è presentato da solo davanti al portiere avversario Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.